Benvenuti in questo nuovo video in cui facciamo una breve sintesi di quello che è successo nel weekend di campionato Dunque, il Lecce ha pareggiato ieri al big match della terza giornata del gironi di ritorno Il Via del Mare contro il Benevento Partita terminata per 1-1 all'autogol di Calabresi Ha risposto poi il solito Gabriel Strefezza per i giallorossi Dunque, risultato punto d'oro per quello che si è visto in campo Un primo tempo, il Lecce, nei primi 35 minuti, sembrava essere totalmente in balia del Benevento Il quale è andato in vantaggio al quarto d'ora con l'autogol di Calabresi su cross di Acampora E poteva farne anche altre, pensiamo a tutte le occasioni divorate da Roberto Insigne Il fratello del capitano del Napoli, Lorenzo Dunque, il Lecce poi negli ultimi minuti del primo tempo Si è un pochino tentato di riaggiustare la situazione È riuscito a trovare la via del gol con Gabriel Strefezza Decimo gol stagionale per il brasiliano Stagione d'oro per lui nel Salento E poi ha sfiorato, proprio al termine del fischio finale Nella prima frazione di gioco Ha sfiorato il gol con Mario Gargiulo Strefezza che, tra l'altro, essendo in vita ed essendo stato ammonito Non sarà presente il prossimo mercoledì, dopo domani, ad Alessandria Dunque, secondo tempo più equilibrato Tante occasioni sia da una parte che dall'altra Ma il gol non è arrivato Quindi una prestazione tutto sommato positiva In secondo tempo, dal punto di vista della voglia, del carattere Ma non è stato fatto abbastanza per vincerla Vuoi un po' per la condizione deficitaria di alcuni big che sono scesi in campo Pensiamo per esempio a Tuya Il quale veniva da un lungo periodo di inattività A causa di un infortunio prima del Covid Poi, a proposito, facciamo gli auguri al Centrale di Civita Castellana Per la nascita del piccolo Leo questa mattina Stesso quota, ma anche tantissimi assenti Vuoi anche per la grande qualità del Benevento Per il grande merito del Benevento I Sanniti sono una delle compagini più attrezzate Per puntare alla fine del campionato alla Serie A diretta Dunque, pareggio per 1-1 Giallo-Rossi che questa mattina sono tornati subito in campo Per preparare, dicevamo, il turno infrasettimanale del prossimo mercoledì ad Alessandra Una partita assolutamente da vincere Anche perché le dirette concorrenti che hanno frenato Stanno un attimino frenando in questo ultimo periodo Pensiamo al Brescia con una situazione turbolenta Dovuta all'esonico di Inzaghi prima E poi al richiamo del tecnico piacentino E poi Al Pisa Che non vince da tanto Se non sbaglio da quattro partite Attenzione però al Gremonese Che piano piano, piano piano, zitta zitta Sta, una squadra di grande qualità Sta via via avvicinandosi al primo posto Dunque Lecce dovrà guardarsi indietro E quindi sarà importante Tornare dal Piemonte Con i tre punti in tasca Dunque, ci vediamo a metà settimana Per fare un attimino la sintesi Dopo Alessandra Lecce Dopo Alessandra Lecce